L'attesa è finita! Adesso puoi avere calcio più cinema più 60 canali e l'HD incluso, tutto a soli 29 euro al mese! Un mondo di cinema in HD! Tutta la serie A e i campionati internazionali in HD! Le serie TV più attese, i documentari di National Geographic e Discovery Channel e un'offerta unica di canali per bambini di tutte le età! Calcio più cinema più 60 canali, HD incluso, tutto a soli 29 euro al mese! Abbonati subito! L'offerta scade il 31 gennaio! Grazie a tutti!